Bryce Rhodes, anche conosciuto come Rambo, è diventato virale su TikTok grazie a un video che mostra lui in tribunale con indosso una maschera. Bryce ha fatto molto parlare di sé per questo fatto e anche per via dei suoi atteggiamenti aggressivi e violenti davanti ai giudici, che più volte ha minacciato di morte. In questo video vi spiegherò perché Bryce ha fatto così tanto parlare di sé, ma soprattutto vi racconterò gli orribili crimini che ha commesso. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi vi racconterò finalmente una storia di cui volevo parlarvi in realtà da tanto. Non troppo tempo fa ci ho fatto anche un video su TikTok, riguardo proprio a questa vicenda, video in cui vi ho chiesto se avreste voluto che ne parlassi in modo più dettagliato su YouTube. Ecco, e praticamente tutti hanno risposto di sì, quindi eccomi qui. Ora non ho nient'altro da aggiungere, quindi direi di cominciare subito con la storia di Bryce. Bryce Rhodes nasce il 9 agosto 1990 a Louisville, in Kentucky. Vorrei potervi raccontare un sacco di cose sulla sua infanzia, sulla sua adolescenza, sul contesto in cui è cresciuto, ma purtroppo sono state rese pubbliche pochissime informazioni su di lui. Tutto ciò che sappiamo, lo sappiamo solo grazie ad alcune dichiarazioni fatte dalla matrigna di Bryce. Queste dichiarazioni la donna le ha fatte durante le udienze in tribunale, quindi nonostante le informazioni siano davvero poche, penso sia comunque importante fare un quadro generale di quello che è stato, insomma, il contesto in cui è cresciuto. Bryce, fin da piccolo, non conosce una situazione stabile, né a casa né con la famiglia. Viene cresciuto da sua madre biologica, una donna di nome Shona, e ha anche una sorella minore di cui però non sono riuscito a trovare il nome. Tutti e tre vivono in un piccolo appartamento al 700 di North Hyde Avenue. Shona viene descritta come una donna gentile e una grande lavoratrice, ma la situazione in casa non era mai stata delle migliori, e Shona in generale non eccelleva come madre. Il padre di Bryce, di cui non sappiamo il nome, si era separato da Shona mentre lei era ancora incinta del bambino, e si era risposato subito dopo, praticamente, subito dopo la nascita del bambino, con una donna di nome Anna James. Quest'Anna, nonostante tutto, instaura subito un grande legame, un legame molto forte col piccolo Bryce, quasi come se fosse suo figlio. Questo però, come potete immaginare, crea sin da subito grandi tensioni tra lei e Shona, che arriveranno anche ad intraprendere una battaglia legale per la sua custodia. Alla fine sarà Shona ad ottenere la custodia e quindi Bryce si stabilirà definitivamente con lei e con la sua sorellina. Ma è proprio qui che cominciano altri problemi. Quando Bryce inizia le elementari, si rivela subito essere un bambino estremamente agitato, con poca voglia di studiare e sempre in cerca di guai. In futuro gli verrà diagnosticata la DHD e verrà stabilito che il suo QI era piuttosto basso rispetto alla media, cosa che sicuramente gli rendeva difficile stare al passo con i compagni e che gli procurava anche, probabilmente, molta insicurezza. Senso, insomma, di non appartenere a un gruppo, ecco. Secondo me, ma questo è un mio parere da non esperto ovviamente, questo sarebbe stato il momento migliore per prendere in mano la situazione e portare Bryce magari da uno psicologo infantile, che secondo me avrebbe saputo gestire meglio tutta questa situazione, magari facendogli frequentare delle classi apposite per alunni con difficoltà di apprendimento, oppure proponendo attività diverse, magari facendola vicina da qualche sport, in modo che scaricasse, potesse sfogare un po' tutta quell'energia che aveva in più rispetto agli altri bambini. Tuttavia, questo non succede. Anna, dalla sua matrigna, è sempre stata molto chiara su questo e fin da quando Bryce ha dato i primi campanelli d'allarme, ha sempre sostenuto che fosse necessario portarlo in terapia, aiutarlo in questo senso. Ma Shona, d'altro canto, che si occupava del bambino, si è sempre rifiutata. Quindi quando dicevo che Shona non eccelleva come madre, intendevo questo, nel senso che ha completamente ignorato tutti i campanelli d'allarme di suo figlio, il che ovviamente non ha fatto altro che peggiorare tutta la situazione e questo ha creato grandi tensioni tra le due donne, che si trovavano spesso in disaccordo per quanto riguardava l'educazione e l'istruzione di Bryce. Una volta entrato nell'adolescenza, poi, come era assolutamente prevedibile, le cose cominciano a peggiorare. Bryce salta spesso le lezioni ed è estremamente pigro, evita di fare proprio qualsiasi cosa, a partire dai compiti fino alle faccende domestiche, qualsiasi cosa. Arrivato a 16 anni, quindi, decide di lasciare il liceo e da quel momento in poi la sua unica ambizione sarà entrare a far parte di una gang. Il fenomeno delle gang negli Stati Uniti si è diffuso già negli anni 70 e è ancora molto diffuso. Solitamente chi vuole entrare a farne parte lo vuole fare per sentirsi parte di un gruppo, per sentirsi parte di qualcosa, di una sorta di famiglia, e forse è qualcosa che a Bryce era sempre mancato. Il problema era che nessuna gang voleva Bryce, cioè lui andava letteralmente in giro per il suo quartiere chiedendo alle varie gang di potersi unire a loro, ma nessuno lo voleva. E questo perché per entrare in una gang bisognava dimostrare di essere disposti a tutto per il gruppo, cosa ovviamente non facile da mettere in atto. Bryce però, che voleva davvero far parte di qualcosa, prende una decisione abbastanza stupida per cercare di impressionare le gang locali e partecipa ad una rapina mano armata. Bryce decide, insieme ad altri otto giovani, di derubare un gruppo di adolescenti minacciandoli con delle armi da fuoco. Il 24 agosto 2009, con altri ragazzi del suo quartiere, si reca a Jeffersonville, vicino ad un club di basket, dove a quell'ora sarebbe appunto terminata la lezione di basket. E non appena dalla palestra escono alcuni adolescenti, Bryce e gli altri ragazzi si avvicinano a loro e cominciano a minacciarli con le pistole. Quei poveri ragazzi, completamente terrorizzati, svuotano le tasche e consegnano tutto quanto a Bryce e ai suoi amici, ai ragazzi con cui era. E così Bryce riesce a racimolare la bellezza di 50 dollari e 2 cellulari. Direi la rapina più fruttuosa della storia. Comunque per questo fatto Bryce verrà identificato solo due giorni dopo, verrà arrestato per rapina e condannato a scontare 6 anni di carcere. In tutto ciò, ricordiamoci, aveva appena 18 anni. Nonostante la condanna, comunque uscirà dopo soli due anni per buona condotta, ma verrà comunque arrestato di nuovo poco dopo per aver violato la libertà vigilata. Insomma, dal 2011 al 2014, Bryce entra ed esce di prigione continuamente e ogni volta per reati diversi, tra cui furti, rapine, aggressioni. E da quel momento le cose sarebbero andate sempre peggio per lui. Nel 2014, il ragazzo viene arrestato per aver aggredito Shona, sua madre. Secondo i verbali del tribunale, Bryce l'avrebbe afferrata per il collo e le avrebbe sferrato un pugno alla tempia mentre cercava di scaricare la spesa, spingendo così la sorella minore a chiamare la polizia. Tuttavia Shona, in quel caso, sceglie di non sporgere denuncia e di ritirare tutte le accuse. Così Bryce si risparmia il carcere, ma viene comunque poi costretto a rimanere in libertà vigilata. Bryce, oltre alla sua non redditizia attività criminale, si avvicina molto anche al mondo della musica rap e comincia a dedicarsi in realtà al 100% proprio a questo, diventando una sorta di rapper emergente e inventando il soprannome Rambo, che sarebbe poi diventato il suo nome d'arte. Il motivo per cui ho deciso di non chiamarlo così nel corso del video è perché non lo trovo giusto, nel senso che secondo me non merita di ricevere visibilità per la sua musica e per la sua arte, visto gli orribili crimini che ha commesso. Comunque, molti potrebbero pensare che questa cosa del rap in realtà fosse ottima per lui, incanalare le proprie emozioni in qualcosa di artistico non può che portare a qualcosa di positivo, no? Sì, ma il problema è che Bryce non riusciva proprio a tenere lontana l'illegalità nemmeno nella musica e per questo si avvicina al mondo del gangsta rap, che sarebbe un genere musicale che deriva ovviamente dal rap e che attraverso testi violenti si sofferma particolarmente su temi come droga, sesso, armi e in generale le attività criminali criminali inerenti allo stile di vita delle bande di strada e dei gangster e noi sappiamo quanto Bryce desiderasse unirsi ad una gang quindi in quel periodo si dedica con anima e corpo alla musica gira diversi video musicali nel suo quartiere spesso sfoggiando armi, droghe e auto di lusso e ovviamente sempre accompagnato da ragazzi più piccoli di lui che abitavano in quel quartiere e che, in cambio di soldi, accettavano di partecipare ai suoi video musicali per impugnare le armi e per fare le comparse questo è un esempio di un suo video musicale una delle sue canzoni più famose si chiama Trappin' Juggin' ora conta quasi 100.000 views su youtube ma sono più che sicuro che il suo canale ufficiale sia stato eliminato infatti non sono riuscito a trovarlo e se l'ho trovato non me ne sono accorto perché non so che nome vesse ad ogni modo se volete andare ad ascoltare qualcosa trovate ancora tutto su youtube penso siano dei re-upload comunque in alcune scene del videoclip di Trappin' Juggin' si vedono ragazzini impugnare armi e stiamo parlando di ragazzini che non hanno più di 15-16 anni queste infatti sono persone di cui Bryce inizia a circondarsi e il motivo per cui scegli di reclutare ragazzini ancora adolescenti e molto più piccoli di lui e quindi ovviamente più ingenui e facilmente manipolabili è perché nessuno della sua età voleva averci a che fare ovviamente i ragazzini più piccoli lo ammiravano ed erano felici di ricevere soldi per comparire nei suoi video e atteggiarsi da gangster insieme a lui e allo stesso tempo si sentiva potente lui perché sapeva di essere il leader di una sorta di banda anche se definirla tale mi sembra un po' una cazzata ma insomma ormai abbiamo capito il personaggio per lui lo era Bryce pian piano inizia a sfruttare quindi i ragazzini per svolgere anche piccole attività criminali quali spaccio di sostanze stupefacenti e furti ma parliamo un attimo anche di questi ragazzi che si erano uniti a Bryce allora due dei ragazzi della banda si chiamano Maurice Gordon di 16 anni e Larry Ordway di 14 Maurice e Larry saranno piuttosto importanti per questa vicenda quindi direi che dobbiamo spendere due parole anche su di loro i due ragazzi in realtà sono fratellastri perché nati da padri diversi ma dalla stessa madre una donna di nome Elizabeth Marie Wren i nomi dei padri dei ragazzi non sono stati resi pubblici ma comunque non sono mai stati presenti nella vita dei figli quindi non sono rilevanti per la storia i ragazzi vengono cresciuti dalla mamma Elizabeth e dalla nonna materna Deborah Wren che ha un legame molto forte con i nipoti che praticamente la vedono come una seconda mamma Maurice e Larry nonostante abbiano due anni di differenza sono nella stessa classe e questo perché Maurice a scuola non eccelleva affatto anzi era stato bocciato due volte appunto perché non gli piaceva studiare, non andava bene a scuola mentre Larry d'altro canto era un ottimo studente con voti sempre eccezionali insomma era al passo con i tempi Maurice nonostante però non andasse bene a scuola adorava lo sport infatti giocava nella sua squadra locale di basket nella quale dava spesso prova di essere un ottimo giocatore e oltre a questo aveva una grande passione per la musica in generale i due comunque vengono descritti come due bravi ragazzi che nonostante le difficoltà e il contesto difficile in cui comunque sono cresciuti non hanno mai manifestato comportamenti problematici, devianti o violenti o almeno questo fino a quando non hanno conosciuto Bryce purtroppo quando Bryce entra nella loro vita i due adolescenti cominciano a cambiare e ad avere atteggiamenti che non erano affatto da loro Bryce comincia a comprare loro vestiti e orologi li porta alle feste, acquista per loro alcol e marijuana e piano piano conquista la loro fiducia utilizzandoli letteralmente come scagnozzi i due fratelli compaiono anche in alcuni video musicali di Bryce appunto tra cui nel suo famoso videoclip Trapping Jugging in quello in particolare sono riuscito a riconoscerne solo uno e lo vediamo anche impugnare delle armi e apparentemente sotto l'effetto di qualche sostanza insomma lentamente Maurice e Larry stavano prendendo la strada della criminalità una strada che è molto facile prendere quando si cresce in un quartiere sfortunato purtroppo come vi dicevo ancora oggi in molti quartieri americani sono le gang a controllare tutto per cui è molto facile finire dentro giri loschi può sembrare conveniente ecco Larry e Maurice ovviamente non saranno gli unici ragazzi ad incrociare il percorso di Bryce e ad entrare nei suoi giri ma parlerò solo dei più rilevanti per questo caso perché altrimenti la lista sarebbe lunghissima un altro ragazzo che finisce nel brutto giro di Bryce è Anuar Carter di soli 15 anni che entra a far parte di questo mondo grazie a Maurice e Larry dato che era un loro grande amico i tre infatti frequentavano la stessa scuola e giocavano nella stessa squadra di basket poi parliamo anche di Jacorey Taylor Jacorey vabbè detto anche Corey che al momento di questo fatto ha 17 anni quindi anche qui un ragazzo minorenne e facilmente manipolabile per Bryce e infine abbiamo Tieren Coleman di 19 anni tutti questi ragazzi che vi ho presentato sono stati descritti come dei bravi ragazzi nessuno di loro aveva precedenti prima di conoscere Bryce e tutti si conoscevano quindi Bryce pian piano si ritrova sempre più persone intorno a lui fino ad avere una vera e propria baby gang ma Maurice, Larry, Anuar, Corey e Tieren rappresentano i suoi membri più fedeli e saranno tutti e cinque molto importanti per questa vicenda so che sono tanti nomi da ricordare ma provate a tenerli a mente io comunque vi metterò le loro rispettive foto ogni volta che parlerò di uno o dell'altro ragazzi scusate faccio una piccola interruzione perché ho sbagliato a dire il nome di prima ho detto Anuar Carter invece è An-Huan Carter ok comunque nonostante ora Bryce abbia letteralmente tutta la sua baby gang a fargli da spalla vuole ancora entrare a far parte di una vera banda perché la sua ovviamente non poteva definirsi una vera banda era così disperato nel cercare di entrare a far parte di una gang che era disposto letteralmente a tutto pur di farsi accettare e purtroppo arriva un momento in cui Bryce sente di poter prendere la palla al balzo nel maggio del 2016 iniziano a girare varie voci nel quartiere secondo cui una banda locale stava cercando un sicario un sicario che facesse una commissione per loro in cambio questo sicario ovviamente avrebbe ricevuto dei soldi a Bryce quando sente questa voce si accende una lampadina perché pensa subito che quella sarebbe stata l'occasione perfetta per farsi notare e decide quindi di andare da questa gang locale per offrirsi come volontario e sì avete capito bene la commissione sarebbe stata uccidere qualcuno probabilmente un membro di una gang rivale o chissà purtroppo questo non è specificato non ho trovato informazioni su questo perché da questo momento in poi sarà tutto un gran casino fidatevi la banda quindi fornisce a Bryce tutte le informazioni i dettagli su questa persona sul loro obiettivo gli forniscono la descrizione di dove si sarebbe trovato e a che ora e appena Bryce viene a conoscenza di tutto accetta lo fa nonostante non avesse neanche la minima idea di chi fosse questa persona l'unica cosa che gli importava davvero era impressionare questa gang per poter finalmente essere accettato al suo interno ma se pensate che Bryce avrebbe agito da solo vi sbagliate purtroppo decide di trascinare letteralmente con lui anche alcuni membri della sua di gang che in quel momento non avevano la minima idea del piano di Bryce e non sapevano in cosa stavano andando a cacciarsi il 4 maggio Bryce chiama al rapporto i fratelli Maurice e Larry Hanwhan Carter e Corey Taylor i cinque tutti insieme cominciano a girare per il quartiere su un'auto inizialmente è Maurice a guidare Bryce si trova sul sedile del passeggero mentre Larry, Hanwhan e Corey si trovano dietro oddio inizialmente rimangono così per tutto il tempo a bordo della macchina i ragazzi girano per il quartiere alla ricerca di quest'uomo che Bryce avrebbe dovuto uccidere e che secondo le informazioni fornite dalla banda avrebbe dovuto trovarsi nei paraggi in quel momento ma all'improvviso un uomo attira l'attenzione di Bryce quest'uomo si chiama Christopher Jones a 40 anni ed è il padre di due figli Christopher viene descritto come una persona meravigliosa un padre amorevole dedito alla famiglia e al lavoro e quel giorno stava semplicemente tornando a casa appunto dalla sua famiglia dopo un lungo turno di lavoro Bryce lo guarda per un po' e dopo qualche istante pensa di essere sicuro che quello sia il suo uomo e sottolineo quindi dice a Maurice di accostare e il ragazzo lo fa ma nessuno dei presenti in macchina sapeva che cosa avesse in mente Bryce non appena l'auto si ferma Bryce salta giù dal veicolo e si avvicina a Christopher e senza lasciargli neanche il tempo di realizzare o di dire qualcosa tira fuori una pistola e gli spara al petto sotto gli sguardi scioccati dei quattro ragazzi in macchina Christopher si accascia sul marciapiede e Bryce prende subito la fuga risalendo in macchina e ordinando a Maurice di scappare Maurice però è visibilmente sotto shock e non riparte anzi dice a Bryce che non possono lasciare quell'uomo lì a morire e che devono chiamare subito un'ambulanza a quel punto però Bryce lo minaccia con la pistola e gli dice che se avesse detto una sola parola di quello che aveva visto quel giorno allora sarebbe stato lui il prossimo e l'avvertimento ovviamente valeva anche per i tre ragazzi dietro quindi il povero Maurice che ora stava letteralmente tremando riparte guardando nello specchietto il corpo senza vita di Christopher accasciato sul marciapiede in una pozza di sangue Bryce dopo l'omicidio è in estasi totale finalmente era arrivata la sua occasione per farsi notare per guadagnare il rispetto che secondo lui meritava ed era giunta l'ora di unirsi ufficialmente ad una vera gang peccato però che questa convinzione viene smontata praticamente subito perché come penso avrete capito Christopher Jones non era l'uomo giusto Christopher era stato solo sfortunato ad incrociare la strada di Bryce quel giorno ed era appena stato ucciso a sangue freddo e lasciato sul marciapiede a morire ingiustamente oltretutto Christopher aveva la fedina penale pulita non aveva precedenti e non era mai stato coinvolto in nessuna attività o giro criminale era un uomo innocente che è stato ucciso senza nessun motivo ma Bryce in quel momento ancora non lo sa così si reca dalla banda che gli aveva commissionato l'omicidio e comunica ai membri di aver eseguito il compito a quel punto la gang però gli comunica che Bryce aveva ucciso la persona sbagliata smorzando completamente tutto il suo entusiasmo perché per questo fatto non avrebbe ricevuto nemmeno un centesimo e ovviamente vista l'incomprensione non da poco non sarebbe nemmeno stato accettato nella gang anzi dai membri viene anche considerato come uno stupido per aver ucciso una persona senza motivo dato che le gang non hanno come obiettivo quello di uccidere persone innocenti per strada anzi va completamente contro il loro codice morale insomma per Bryce tutto questo rappresenta un vero e proprio colpo basso era convinto di aver eseguito il compito che gli avevano assegnato ma aveva sbagliato tutto la polizia apre in fretta un'indagine per omicidio ma purtroppo non ha modo di collegare il crimine a Bryce dato che Christopher appunto non aveva nessun collegamento né con lui né tantomeno con le gang del luogo purtroppo inoltre non c'erano stati testimoni ad assistere all'omicidio oltre ai ragazzi in macchina ovviamente quindi il criminale al momento era al sicuro non era indagato e nemmeno sulla lista dei sospettati eppure c'è qualcosa che lo fa andare nel panico o meglio qualcuno e quel qualcuno sono proprio Maurice e Larry i fratelli dopo l'omicidio cominciano ad avere una paura impressionante di Bryce ed entrambi concordano sul fatto di non voler assolutamente più avere niente a che fare con lui non voler far parte di questo mondo non vogliono per nessun motivo essere coinvolti in omicidi o sparatori di questo tipo nei giorni successivi quindi i ragazzi cercano di evitare il più possibile Bryce ovviamente non è che potevano dirgli semplicemente no basta non usciamo più con te perché lui era pericoloso avevano paura di lui e quelle poche volte comunque che gli stanno intorno che devono per forza uscire con lui sono visibilmente a disagio perché ora lo vedevano proprio per ciò che era un delinquente pronto a qualsiasi cosa letteralmente pur di ottenere rispetto e diventare parte di qualche gruppo addirittura pronto ad uccidere persone innocenti o ad andare contro la sua stessa banda Maurice in particolare si trovava in una posizione molto scomoda perché quel giorno era stato proprio lui a guidare l'auto e questo è ovviamente un reato gravissimo se fossero stati scoperti sarebbe stato accusato di favoreggiamento nonostante né lui né gli altri ragazzi avessero la minima idea delle intenzioni di Bryce quel giorno Bryce d'altro canto stava diventando sempre più paranoico giorno dopo giorno perché sapeva che sarebbe stata solo questione di tempo prima che i ragazzi crollassero e andassero alla polizia a raccontare tutto per questo quindi decide di prendere in mano la situazione sfortunatamente ci stiamo avvicinando alla seconda tragedia di questo caso il 21 maggio 2016 quindi poco più di due settimane dopo l'omicidio di Christopher Maurice e Larry si trovano a casa insieme alla mamma e alla nonna in quel momento in casa si respira proprio una bella atmosfera perché l'anno scolastico era quasi terminato erano tutti molto contenti che l'estate si stesse avvicinando i quattro tra l'altro avevano anche programmato di partire in vacanza il mese successivo quindi proprio una bella atmosfera quella sera però Bryce telefona ai ragazzi e li invita ad una festa nel suo appartamento e loro sebbene all'inizio fossero un po' titubanti accettano l'invito probabilmente impauriti della risposta di Bryce se non avessero accettato vi ricordo che Bryce comunque viveva ancora con sua madre e sua sorella ma quel giorno le due si trovavano fuori città quindi ha pensato bene che fosse il momento perfetto per agire con la scusa della festa attira i due fratelli a casa sua completamente ignari di quello che sarebbe successo quando Maurice e Larry arrivano vedono che in casa c'erano già gli altri tre ragazzi del gruppo Hanwan Corey e Tieren i cinque ragazzi quindi si siedono sul divano e cominciano a bere fumare ascoltare musica ma notano tutti subito che Bryce è visibilmente nervoso non passa molto tempo dall'arrivo di Maurice e Larry che Bryce comincia ad inveire su di loro all'inizio gli accusa di averli rubato dei soldi cosa che ovviamente non era vera ma Bryce in quel momento stava solo cercando un pretesto per litigare e farli innervosire loro quindi ribattono dicendo di non aver rubato nulla anche perché come sappiamo temevano Bryce quindi non avrebbero mai pensato di rubargli dei soldi lui però coglie l'occasione comunque per accusarli di altre cose tra cui anche il fatto di aver detto in giro dell'omicidio altra cosa falsa ma Bryce a quel punto è praticamente convinto della sua versione talmente tanto che non molla la presa cioè se l'è creata lui questa versione ne è convinto ok Maurice e Larry quindi cominciano a capire che la storia della festa probabilmente era solo una scusa e che erano stati invitati lì per qualcos'altro insomma si rendono conto che quella probabilmente era una trappola e appena se ne rendono conto senza avere il tempo di realizzare gli altri tre ragazzi prendono i fratelli di peso e li trascinano in bagno chiudendoli a chiave a quel punto Bryce raduna la banda dicendo loro che nel gruppo c'erano degli snitch che nel slang americano significa spia colui che parla con le guardie tradendo così la sua gang continua dicendo che insieme avrebbero dovuto votare per la vita o la morte dei ragazzi e a questo proposito ci sono pareri discordanti secondo le future testimonianze dei ragazzi Corey e Thieren avrebbero votato subito per la morte mentre Hanwhan avrebbe votato di no perché ricordiamoci che Hanwhan in primis era amico dei fratelli anzi erano stati proprio loro a presentarlo a Bryce questo però non è dato per certo nel senso che queste sono solo le dichiarazioni che ha fatto Hanwhan in tribunale ma non abbiamo la certezza che le cose siano andate davvero così in ogni caso due voti contro uno erano abbastanza per spingere Bryce a portare a termine il lavoro a quel punto i tre adolescenti aprono la porta del bagno e prendono Maurice di peso e gli legano le mani dietro la schiena con una cintura gli infilano un calzino in bocca per impedirli di urlare e poi gli coprono la testa con un berretto lasciando Larry ancora chiuso dentro il bagno subito dopo buttano Maurice a terra e Bryce comincia ad accanirsi su di lui prendendolo a pugni ripetutamente Larry intanto in bagno sente le grida soffocate di suo fratello e implora Bryce di non fargli del male di smetterla ma la sua furia purtroppo era solo all'inizio Tieren a quel punto passa un coltello da cucina a Bryce e lui quasi senza pensarci comincia a pugnare Maurice ripetutamente ancora e ancora mentre la vittima si contorceva urlava dal dolore Bryce poi si alza guarda a Hanhwan e gli passa il coltello dicendogli che era il suo turno e che siccome erano una banda allora sarebbero stati tutti coinvolti nell'omicidio e purtroppo Hanhwan esegue gli ordini di Bryce anche lui pugnala Maurice contribuendo così all'uccisione di uno dei suoi migliori amici poi passa il coltello a Corey a cui viene detto di fare la stessa cosa l'unico che non pugnalerà Maurice sarà invece Tieren anche se dalle fonti non ho capito bene perché a lui non è stato detto di farlo non lo so all'inizio però era uno di quelli che ha votato a favore della morte dei ragazzi quindi non lo so ad ogni modo a quel punto Maurice è steso a terra in una pozza di sangue e privo di sensi non sappiamo se fosse già morto o se fosse in fin di vita Bryce comunque ordina di far uscire fuori Larry dal bagno che intanto si era rannicchiato in un angolo e piangeva disperato inutile dire che questa scena mi ha veramente spezzato il cuore Larry fa appena in tempo ad uscire dal bagno e vedere suo fratello Maurice sdraiato in terra in una pozza di sangue che Bryce immediatamente gli lega le mani dietro la schiena lo imbavaglia e anche a lui mette un berretto sulla testa per impedirgli di vedere e per disorientarlo e senza perdere un altro secondo comincia a pugnare anche lui ancora e ancora lo scenario è lo stesso del precedente il coltello viene passato agli altri membri che questa volta pugnano tutti Larry almeno una volta e così quella sera i fratelli Maurice e Larry perdono la vita per mano di Bryce e i suoi tre scagnozzi che credo abbiano agito per paura a questo punto e così comunque tre vite innocenti spezzate per mano di una furia omicida senza senso alle prime ore di domenica 22 maggio Bryce e gli altri ragazzi mettono i corpi di Maurice e Larry all'interno di due casse di legno e poi le caricano sul retro dell'auto di Bryce dopodiché Bryce guida fino ai pressi di una casa abbandonata scarica le casse di legno in un'area boscosa ad un centinaio di metri dietro la casa e dopo averle cosparse di benzina dà loro fuoco geniale no? le fiamme infatti si propagano molto velocemente ed essendo notte alcune persone che vivevano nei paraggi notano l'incendio e chiamano subito le autorità nel frattempo gli altri tre adolescenti sono impegnati a ripulire la scena del crimine Bryce dopo torna a casa e riaccompagna i tre ragazzi alle loro case e torna a casa da solo convinto che l'avrebbe fatta Franca anche questa volta ma per fortuna non sarà così dopo aver spento l'incendio i vigili del fuoco notano ovviamente i due corpi praticamente irriconoscibili e siccome le vittime non avevano nessun documento i corpi vengono spostati per essere analizzati e così la polizia riesce a fornire una specie di identikit delle vittime nella speranza che qualcuno si facesse avanti per riconoscerle e già il giorno seguente si fa avanti un insegnante si trattava di uno dei professori di Larry e Maurice che non avendoli visti in classe quel giorno aveva subito avuto dei sospetti e aveva deciso così di contattare le autorità e dopo averle contattate purtroppo i suoi sospetti hanno conferma la polizia in questo modo risale all'indirizzo dei ragazzi si presenta lì ma in casa non c'è nessuno perché sia la madre che la nonna erano partite fuori città il giorno prima così le autorità prendono la difficile decisione di chiamare Elisabeth e darle l'orribile notizia al telefono gli agenti devono per forza procedere con alcune domande per capirne di più sulla situazione e chiedono quindi la donna con chi fossero usciti i due ragazzi l'ultima volta che li aveva visti e Elisabeth senza esitare nemmeno un secondo dice loro il nome di Bryce la polizia non ci mette molto prima di trovare Bryce sul database e ovviamente scopre tutta la lunga lista di crimini che aveva alle spalle così una pattuglia si reca a casa sua però sul luogo non trova nessuno Elisabeth però fa anche il nome di Anjuan Carter che era anche uno dei migliori amici di Maurice e Larry e così alcuni agenti decidono di chiamarlo in centrale per interrogarlo e Anjuan ovviamente vuota subito il sacco racconta tutto racconta di come la sera del 21 Bryce abbia attirato nel suo appartamento Maurice e Larry e di come a turno siano stati tutti costretti da Bryce a pugnare i due fratelli Anjuan però non confesserà solo l'omicidio di Maurice e Larry ma confessa anche tutta la verità sull'omicidio di Christopher Jones a quel punto la polizia sa di avere un grosso caso tra le mani perché se ricordate l'indagine per l'omicidio di Christopher era in stallo non c'erano sospettati da questo momento quindi diverse pattuglie si mettono alla ricerca dell'assassino e non ci vuole molto tempo in realtà Bryce Rhodes viene trovato poche ore dopo all'interno della sua auto e viene immediatamente arrestato con l'accusa di triplice omicidio altri agenti intanto si recano di nuovo nel suo appartamento per perquisire la casa questa volta con un mandato e nonostante gli sforzi per ripulire la scena del crimine la polizia trova del sangue praticamente ovunque sangue che viene portato in laboratorio e analizzato e che restituisce un risultato chiarissimo era il sangue di Maurice e Larry a seguito della confessione di Hanwan anche Corey e Tieren vengono arrestati con l'accusa di omicidio Bryce Rhodes intanto non si smentisce nemmeno dopo l'arresto perché sappiate che dal momento del suo arresto avvenuto appunto a maggio del 2016 fino al suo processo sarebbero passati ben sette anni e lui durante questo tempo di attesa fa casino ovunque e lo fa con solo l'unico scopo di ritardare le pratiche del processo questo è ciò che ha reso questo caso così mediatico così famoso ma andiamo con ordine inizialmente a Bryce è stato assegnato un avvocato difensore che però ha dovuto lasciare la causa poco tempo dopo per via di un conflitto di interessi l'uomo infatti conosceva bene lo zio di Maurice Larry e quindi non avrebbe potuto difendere il suo cliente per via del suo legame con le vittime Bryce però non la prende per niente bene e in aula gli sputa letteralmente addosso dicendogli di essere un codardo nell'agosto di quello stesso anno siamo sempre nel 2016 Bryce fa a botte con un detenuto procurandogli un taglio sulla testa e minacciandolo di morte il mese successivo fa a botte con un altro detenuto e poi gli sputa addosso aveva questa tendenza mentre qualche settimana dopo minaccia delle guardie carcerarie con una scopa dopo essersi rifiutato di rientrare nella sua cella qualche giorno dopo Bryce decide di urinare in una bottiglia e di rovesciarla addosso ad una guardia ok il fatto che Bryce sia solito sputare addosso a chiunque lo porta ad essere costretto di indossare una maschera ogni volta che compare in tribunale oltre a questo però gli vengono anche immobilizzati sia i polsi che le caviglie perché a questo punto veniva ritenuto violento e pericoloso e queste tenete a mente non sono scene a cui si assiste spesso in tribunale nemmeno in America e infatti il caso è diventato mediatico proprio per questo motivo la scena di Bryce che viene scortato in tribunale con addosso una maschera e legato ad una sedia a rotelle ha fatto presto il giro del web per tutto il tempo Bryce minaccia di morte la giudice dicendo che scoprirà dove abita e che andrà a cercarla non appena uscirà dal carcere aggiungendo che ucciderà anche tutta la sua famiglia nel gennaio del 2017 Bryce viene anche accusato di un altro crimine perché aveva provato a fuggire dal carcere un giorno praticamente le guardie durante la solita perquisizione della sua cella scoprono che sotto al suo letto Bryce stava scavando una buca con l'aiuto di un oggetto metallico appuntito a quanto pare un oggetto ovviamente proibito in carcere anche se nelle fonti non è specificato di che oggetto si trattasse per tutto il 2017 Bryce praticamente continua a compiere una serie di crimini uno dietro l'altro che ovviamente rallentano l'arrivo del processo ed è anche in quell'anno che Bryce dichiara di non volere nessun avvocato e di volersi assistere da solo nel corso degli anni ogni volta che Bryce è apparso in aula ha minacciato il giudice di turno di ucciderlo ha minacciato di morte in un'altra occasione più recente Elizabeth Ren la mamma di Maurice e Larry si trovava in aula e Bryce si girava continuamente facendole sguardi provocanti e mandandole dei baci Elizabeth ovviamente va fuori di testa cioè in un'altra occasione perde il controllo non quella volta lì perde il controllo e cerca di aggredire fisicamente Bryce viene fermata però da un agente ed altre persone che la scortano fuori dall'aula nel corso degli anni Bryce viene anche sottoposto a diverse valutazioni psichiatriche per verificare se fosse idoneo a sostenere un processo cosa che ovviamente era ma lui continuava in un modo o nell'altro a trovare qualsiasi scusa per ritardare il processo e per ottenere sempre più visibilità sempre nel 2017 gli altri tre adolescenti decidono di accettare un patteggiamento per ottenere una riduzione della pena e così collaborano al 100% con le autorità An Juan Carter si dichiara colpevole di favoreggiamento e viene condannato a 10 anni di reclusione ma sarebbe uscito nel 2019 per buona condotta una pena secondo me piuttosto breve nonostante Anwan fosse minorenne penso che comunque si meritava magari di stare 10 anni in prigione non dopo 2 anni e uscire comunque Corey Taylor invece si è dichiarato colpevole delle stesse accuse di Anwan e anche lui è stato condannato a 10 anni e lui tuttora si trova in carcere Tieren Coleman si è dichiarato colpevole anche lui dei medesimi crimini anche lui ha ricevuto 10 anni e anche lui si trova ancora in prigione arriviamo così al dicembre del 2023 quindi 7 anni e mezzo dopo l'omicidio di Maurice e Larry Bryce Rhodes viene finalmente portato a processo e successivamente nel 2024 condannato a 3 ergastoli consecutivi senza la possibilità di richiedere la condizionale si la sentenza è ovviamente stata molto rapida e questo Bryce lo sapeva benissimo ed è il motivo per cui ha cercato di rimandare così tanto questo processo Bryce insomma passerà il resto dei suoi giorni in carcere ma penso che troverà molte altre occasioni per far parlare di sé anche se spero vivamente di no questo ad ogni modo è tutto ciò che abbiamo trovato su questo caso un caso che mi ha fatto davvero incazzare perché se Bryce avesse ricevuto le giuste condanne per i crimini che aveva commesso in passato probabilmente non avrebbe mai avuto proprio la possibilità di uccidere 3 innocenti in generale sono incazzato perché ha ucciso 3 persone così senza senso dai cioè nessuno di questi aveva senso davvero questa storia non ha senso quest'uomo non ha senso che nervoso vabbè fatemi sapere anche voi cosa pensate di tutta questa storia ovviamente io vi ricordo che anche se non riesco a rispondere a tutti vi leggo quasi tutti e trovo sempre molto interessante sapere il vostro punto di vista su questi casi detto questo amici io spero che in qualche modo vi sia piaciuto passare del tempo con me anche oggi se è stato così ricordate di lasciare un mi piace al video o un non mi piace se invece non vi è piaciuto che vedevo di e ora ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di due fratelli di cui si sta parlando molto ultimamente non volevo fare un video su di loro in realtà nel senso non era previsto però dato che me l'avete chiesto tantissime volte lo farò giuro sicuramente avete già capito di quali fratelli sto parlando spero quindi che rimarrete nei paraggi iscrivendovi al canale e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricordati che youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati qui anche oggi con me e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao